Un giorno andrò in un sacco di poste e sarò come un uomo nel mare che sono spinta in mente e loro non sanno dove stanno andando ci vanno è meglio sapere che ci sono posti così belli ma ci possono fare solo se trovano la strada chi c'è più nella vostra strada? a quando si è più nella sua strada? a quando si è più nella sua strada? a quando si è più nella sua strada? è il filmato realizzato in toto testi, immagini e musica da Gian Carmine Arena per l'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'azienda ospedaliera lodigiana pensato per suscitare emozioni più che per raccontare un'esperienza il filmato è stato presentato nella sala serena del vecchio ospedale da Enrico Tallarita, direttore sanitario dell'azienda da Gian Carlo Cerveri, direttore del Dipartimento di Salute Mentale da Paola Morosini, responsabile dell'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dallo stesso autore io ci sono la frase con la quale si chiude il filmato allude alla straordinaria opportunità che le nuove tecnologie della comunicazione hanno offerto agli operatori sanitari per restare vicini ai loro pazienti più piccoli anche in periodo di lockdown il web ci ha aperto nuovi orizzonti che continueremo a scoprire anche quando si tornerà alla normalità ha concluso Paola Morosini